Ci preoccupa che la Regione Campania abbia individuato come progetto strategico di particolare rilevanza la costruzione di una strada veloce da Eboli ad Agropoli. Lega Ambiente esprime con una nota la sua contrarietà al progetto dell'ANAS relativo alla realizzazione della bretella autostradale che dovrebbe accorciare le distanze tra il Cilento e la Piana del Sele e decongestionare la Statale 18. In Campania, afferma ora l'Associazione Ambientalista, riteniamo che di priorità ce ne siano ben altre come ad esempio la messa in sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici circa il 60% è privo del certificato di agibilità l'adeguamento e potenziamento del sistema ospedaliero pubblico il completamento delle infrastrutture idriche oggi gli acquedotti sono colabrodo e molti depuratori mancanti il potenziamento del trasporto pubblico su ferro la realizzazione degli impianti per incrementare la raccolta differenziata e il riciclo va inoltre considerato, prosegue Lega Ambiente, il consumo di suolo che con il progetto vedrebbe centinaia di aziende agricole della Piana private di superfici utili alle coltivazioni il progetto della bretella ha già raccolto in questi giorni in cui si è sviluppato il dibattito pubblico le opposizioni di comitati cittadini tra cui quello di Capaccio Pestum del Movimento 5 Stelle e di alcuni comuni come Battipaglia ed Eboli a favore invece dell'opera i comuni di Agropoli e Capaccio e quindi la provincia di Salerno con Franco Alfieri che ha preso chiaramente posizione per la sua realizzazione per ridurre l'impatto climatico ha concluso Lega Ambiente Campania il settore dei trasporti deve subire una profonda trasformazione pertanto per decongestionare la Statale 18 occorre puntare prioritariamente sulla mobilità sostenibile potenziando il trasporto ferroviario e associandola al trasporto delle biciclette sui treni o al car sharing presso le stazioni di destinazione del Cilento